Tutti rigorosamente in camiseta blanca. 60 ragazzi hanno inaugurato il Summer Camp Experience Real Madrid. La struttura, lo Stadio Novi, l'Associazione Ospitante, la Scuola Calcio United. Vedere tutte queste maglie bianche, anzi le camisete bianche, è un motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Portare Real Madrid ad Angri è stata davvero una grande impresa e quindi siamo tutti felici per questa nuova esperienza. Un'esperienza indimenticabile che permetterà di sviluppare le abilità calcistiche dei ragazzi che potranno approfondire le tecniche e i metodi di allenamento dei veri campioni. Il programma di allenamento che si svolgerà presso lo Stadio Angrese dal 24 al 28 giugno viene svolto da istruttori altamente qualificati e addestrati secondo il modello del Real Madrid e copre le abilità tecniche, l'apprezzamento tattico, la psicologia e le tecniche di allenamento fisico. C'è una metodologia real che è fondamentale, che comunque ci darà sicuramente grandi novità. Ci sono tanti attrezzi scientifici che testeranno i bambini e quindi sicuramente in questa giornata inaugurale di San Giovanni battezziamo nel migliore dei modi questa nostra grande festa con il Real Madrid.